Cari amici tutti, la buona giornata. Volevo, come tutti i miei video, suggerire ai miei sostenitori, sostentatori e quant'altro quello che può sembrare o servire utile, che può essere utile alla vita quotidiana, diciamo tutti i giorni. Allora, questa qui come vedete è una pietra, pietra, è sale, è un sale che si compra, io l'ho presa nei mercatini che fanno qui da noi il mercoledì d'estate, d'inverno no, mi sembra che l'ho pagata 5 euro, questa qui, bisogna stare molto attenti che se cade si fa in mille pezzi, tant'è vero che questa è nuova. Ne avevo comprate 3, una mi è caduta, la sto utilizzando ugualmente perché ci sono fortunatamente formati due pezzi abbastanza grandi, che poi equivalgono alla, forse la metà di questa. e perché questo video per il semplice fatto che per esempio eravamo proprio ieri in giro, mi è passato vicino un soggetto, aveva una puzza di sudore ai ragazzi che mi stava venendo al volta stomaco. sotto le ascelle, nelle parti dove, diciamo, si suda, perché poi alla fine l'odore del sudore ne sono niente meno che batteri, sali, insomma, così, questa proprio porta via l'odore e non è nociva perché non tende a far gonfiare le ghiandole o irritazioni varie, perché alla fine poi è sale. ed è poi quello che si usa, detto fra noi, diciamo, quando ti tagli con la lametta, che si usava quella, quello stick, non mi ricordo come si chiamava, che veniva usato, diciamo, per tamponare, cicatrizzare le ferite. questo è la stessa, lo stesso materiale. ve lo consiglio perché, come dico io, l'altra che si è rotta, poi fa l'altro che sto utilizzando, credo che di averla comprata 4-5 anni fa, perciò, questa usata anche in famiglia, dura una vita, insomma. l'importante è ricordarsi che quando la si bagna è scivolosa e può scappare dalle mani, purtroppo se arriva a terra si fa in mille pezzi, perché alla fine sale. Anche per la sudorazione dei piedi, chi ha quell'odore, purtroppo non se ne deve fare una colpa, ma può essere, insomma, che faccia quegli odori un po' non gradito, e lo consiglio. La trovate, penso anche su Amazon, forse, non so, sale anti odore, anti sudore, qualcosa di genere. Un saluto a tutti, questo è il primo video del 2019, sapete che metto solo, possibilmente, delle cose utili, anche delle stupidate che capitano, giro su WhatsApp. Ciao a tutti, la buona giornata. Ciao di nuovo.